Il Circolo dei Lettori di Via Bogino 9 a Torino ha ospitato la serata Cile a 40 anni dal golpe, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Assemblea Teatro ha messo in scena lo spettacolo Le Rosi di Atacama, dall'omonimo romanzo di Luis Sepulveda, riduzione scenica e regia di Renzo Sicco, interpretato da Mattia Mariani e Silvia Nati, musiche eseguite dal vivo da Daniele Libassi.